Buongiorno Friuli e buon mercoledì 9 maggio. Noi siamo pronti puntuali per la nostra rassegna stampa, tra poco andremo a vedere assieme le notizie principali raccontate dai giornali di oggi, prima però uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Andiamo a vedere innanzitutto una bella immagine della nostra regione che si sta svegliando, un'immagine che oggi ci arriva da Gorizia. La vediamo in questa immagine dalla webcam puntata su Piazza Vittoria a Gorizia. In questo momento ci sono 13 gradi e 9 decimi. A Udine 14 gradi, sulla costa Trieste 18 gradi e 6 decimi. 14 gradi e un decimo a Pordenone. Andando in montagna vediamo 5 gradi e 9 a Tarvisio, 2 gradi e 7 decimi. Sul monte Lussari 3 gradi e 9 sullo Zoncolan. La giornata di oggi sarà caratterizzata da qualche locale pioggia di primo mattino su pianura e costa. In seguito variabilità con schiarite anche ampie, mentre sui monti si avrà una nuova accentuazione dell'instabilità con locali rovescio-temporali, possibili dal pomeriggio anche sulle altre zone. Sulla costa soffierà a Borino, al mattino poi prevarrà la Brezza. Le temperature raggiungeranno le massime di 24-27 gradi oggi in pianura. Andiamo a vedere anche qual è la situazione viabilità. Andiamo sulla pagina infotraffico di Autovie Venete e vediamo che al momento la situazione non segnala eventi particolari. Quindi tutto sommato traffico tranquillo in queste prime ore del giorno sulla A4. Poi per le prossime ore, in particolare per la giornata di domani, è previsto traffico anche intenso e sostenuto per il primo ponte dell'ascensione. E poi vi terremo aggiornati anche su queste novità. Intanto iniziamo la nostra rassegna stampa. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo sulla prima pagina della Repubblica. Ecco il titolo di apertura di oggi. Trump straccia il patto con l'Iran via a dure sanzioni. Questo è il titolo che troviamo nel taglio alto. E vediamo poi anche l'articolo di Federico Rampini che inizia così. L'Iran è un regime del terrore. Il cosiddetto accordo con Teheran per prevenire l'atomica ha eliminato le sanzioni. In realtà gli consente di arrivare all'arma nucleare. Queste le parole di Donald Trump che ritira gli Stati Uniti dall'orribile accordo che non ha portato la pace e ha finanziato i terroristi. E adesso cosa faranno gli altri attori di questa temibile partita? Il demolitore capo continua la sua azione preferita a cancellare ogni eredità di Barack Obama. Il ritiro dall'accordo sul nucleare iraniano va messo a confronto con la scommessa del suo predecessore. E poi invece per quanto riguarda la politica italiana. Lega 5 Stelle pressing su Berlusconi. Renzi dice se si vota Gentiloni leader. Forza Italia divisa sull'appoggio esterno a un governo Lega Movimento 5 Stelle. No del Cavaliere e Mattarella pensa al ticket Belloni Rossi. Chiudiamo Repubblica e proseguiamo la carrellata delle aperture andando sulla prima pagina della stampa. Ecco qua il titolo. Trump straccia il patto con l'Iran. Titola la stampa. Addio all'accordo sulle nucleare Washington all'Europa interrompete gli affari venti di guerra sul golfo. E ancora poi le parole di Trump. Finanzi al terrore la popolazione si ribelli al regime. Tornano le sanzioni. Andiamo a centro pagina dove vediamo la foto notizia di Mattarella assieme ai capitani di Juve e Milan. Questa sera si giocheranno la finale di Coppa Italia. Ultimo assedio Lega Movimento 5 Stelle a Berlusconi. Mattarella potrebbe dare già oggi l'incarico per il governo di servizio. Renzi lancia Gentiloni e poi appunto vediamo la foto di cui parlavamo prima. Ancora andiamo adesso sulla prima pagina del giornale che lancia questo appello. Berlusconi non mollare l'ultimo assalto di Di Maio via Lega per disfarsi del Cavaliere. Che mollino i grillini. Forza Italia sulla responsabilità ha già dato, scrive il giornale. Che poi a centro pagina mette questa foto notizia di questo incendio divampato su un bus a Roma. Il falò dell'inefficienza 5 Stelle, scrive il giornale. Bus in fiamme in centro sono 10 dall'inizio dell'anno. Ancora dal giornale andiamo adesso sulla prima pagina di Libero che titola Capaci di tutto, buoni a nulla. Le forze politiche sono prigioniere di loro stesse. C'è chi vuol votare subito pur sapendo che dalle urne uscirebbe un risultato quasi identico a quello del 5 marzo. Ma i neoeletti non hanno interesse a sciogliere le camere e si battono in difesa dei seggi. Caos senza precedenti. Chiudiamo anche Libero e andiamo adesso a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura. Eccolo. IVA, giustizia, nomine e RAI. Non esiste governo neutrale. Berlusconi non cede pronto l'incarico al premier del Colle. Gli ultimi tentativi di mettere assieme un esecutivo 5 Stelle Lega senza Berlusconi non sembrano aver portato frutti. Il capo dello Stato pronto a dare l'incarico. Elezioni in vista. Chiudiamo anche il Fatto Quotidiano e andiamo a vedere adesso la prima pagina del manifesto. Ecco qua il titolo di apertura con una immagine di Trump. La guerra persiana, titolo al manifesto. L'Iran mente, Trump citando le false prove di Netanyahu, straccia l'accordo sul nucleare faticosamente raggiunto da Obama ed Europa e minaccia di sanzioni chi aiuterà Teheran. L'Unione Europea stavolta dice no, Rouhani ora l'intesa è a 5 ma intanto si prepara al peggio. Ancora andiamo a vedere adesso anche la prima pagina della verità. Il titolo, tutte le mosse di Mattarella per impedire il voto a luglio. Il presidente prende tempo, scrive la verità. Il capo dello Stato ha stiracchiato le consultazioni con l'intento di rosolare Lega e Movimento 5 Stelle e chiudere le finestre elettorali. Neppure oggi darà l'incarico per il governo, dice la verità. L'obiettivo è rinviare le urne fino alla primavera 2019. Vediamo anche la prima pagina del Sole 24 Ore e vediamo le conseguenze di queste incertezze politiche italiane sui mercati. Il rischio voto mette in allerta i mercati. Lo stallo politico si riflette su borsa e titoli. Milano perde l'1,64%, spread a quota 130. rilancio Lega e Movimento 5 Stelle sul governo. Berlusconi tratta, Mattarella va avanti. Boccia dice serve responsabilità. E poi vediamo anche su Sole 24 Ore, Iran, lo strappo di Trump fuori dall'intesa sul nucleare. E l'Europa dice salviamo l'accordo. Prima di passare sui quotidiani regionali andiamo a vedere con l'aiuto della regia di Francesco Snidero anche la prima pagina del Corriere della Sera. Ecco il titolo di apertura, centropagina. Berlusconi non cede ma si tratta. Ecco ancora il titolo di apertura con Mattarella. Oggi il nome per il governo neutrale. Io arbitro imparziale. I giocatori siano corretti, ha detto Mattarella. Forza Italia nega l'appoggio esterno. Questo è appunto il titolo di apertura del Corriere della Sera. Poi nel taglio alto vediamo invece la decisione di Trump di uscire dall'accordo sul nucleare raggiunto con l'Iran. Trump rompe con Teheran, finanzia il terror. Abbiamo già letto le parole del Presidente degli Stati Uniti su tutte le prime pagine dei quotidiani di oggi. Adesso andiamo sui quotidiani locali. Andiamo su Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino. Subito il Messaggero Veneto di Udine. C'è purtroppo una notizia di cronaca nera in apertura. Ne abbiamo parlato anche noi ieri nei nostri telegiornali. Ancora una morte sul lavoro. Ecco il titolo. Operaio muore schiacciato dal muletto. Tragedia a Fagagna. E poi nelle primissime pagine abbiamo tutto l'articolo. Ecco qua. Tragedia al lavoro. Muore schiacciato dal muletto. Il magazziniere Andrea Di Liberto. Trent'anni. Stava finendo il turno di notte alla Tonutti. Ecco qua anche alcune foto del luogo in cui è avvenuto l'incidente. Ci sono le parole dei sindacati che dicono impennata degli infortuni, bisogna agire. CGL e Cisleville dicono non sono casualità, vanno previsti. La vita dei dipendenti deve essere tutelata. E vediamo i numeri che ci dicono di un aumento degli infortuni mortali in Friuli Venezia Giulia dal 2016 al 2017. Vediamo più 6. Ecco i numeri. Questa è la notizia di apertura del messaggero Veneto di oggi. Ma adesso torniamo in prima pagina e andiamo a vedere anche le altre notizie. Nel taglio alto, imprese costrette a fare da sole, Confindustria Udine dice a differenza di Germania e Francia, l'Italia non fa squadra. Questa è la considerazione di Confindustria. E vediamo tutto l'articolo nelle pagine dedicate all'economia. La politica, a differenza di Germania e Francia, non fa squadra per l'internazionalizzazione, dice Confindustria Mareschi Danieli. Eppure siamo la regione con la maggior propensione all'export. Ancora andiamo a vedere anche gli altri titoli in prima pagina, sempre nel taglio alto e sempre per quanto riguarda l'economia. Abbiamo il fascicolo oggi Nord-Est Economia che ci racconta le aziende che galoppano oltre la crisi. E poi, sempre nel taglio alto, vediamo anche l'inaugurazione della nuova redazione del Messaggero Veneto. Andiamo a centro pagina adesso, dove si parla di Giro d'Italia. Giro d'Italia che arriverà anche nella nostra regione. Sabato 19 si corre la San Vito al tagliamento Zoncolan. Domenica la Tolmezzo-Sappada, in questo caso l'attenzione è puntata sulle misure di sicurezza che verranno adottate per garantire uno svolgimento tranquillo e regolare delle due tappe. Carnia blindata per il passaggio del giro, scrive il Messaggero Veneto che poi, appunto, nelle pagine interne racconta nel dettaglio tutte le decisioni prese dalla Questura per garantire uno svolgimento in sicurezza delle due tappe. coinvolte oltre 1.200 persone tra forze dell'ordine e volontari. I principali varchi d'accesso al percorso del giro saranno controllati con dei metal detector, insomma tante misure di sicurezza in campo anche per contenere, diciamo così, eventuali esagitati. Andiamo a vedere anche l'altra notizia che troviamo a centro pagina, parlando sempre di sport, ma sport non giocato, in questo caso l'Udinese in B rischia di perdere 28 milioni, non c'è paracadute che tenga. Poi ne parleremo nella rassegna stampa sportiva. Passiamo alla politica adesso. Si parla delle manovre per la formazione della nuova giunta regionale, incognita voto anticipato sulla giunta regionale. Fedriga vuole chiudere entro il 18 maggio e vediamo anche in questo caso nelle pagine interne l'articolo che ci fa un po' il totonomi e ci sottolinea il fatto che c'è l'ombra appunto del voto anticipato sulla definizione della giunta. Lo scioglimento delle camere potrebbe cambiare posizioni e richieste dei partiti. Fedriga punta a completare il mosaico e presentare l'esecutivo entro venerdì 18. Gli onorevoli in bilico, li vediamo sulla destra, Renzo Tondo, Laura Stabile, Guido Germano Petarin e Luca Ciriani per quanto riguarda il centro-destra. Torniamo in prima pagina e parliamo un po' di cronaca. Investe sulle monete ma il capitale va in fumo. Un altro caso di risparmio tradito è la prima segnalazione del genere. Una persona che aveva investito in monete, in vecchie lire, avrebbero dovuto avere un valore importante. In realtà la stima adesso è molto più bassa, la stima del valore di queste monete. Il caso Petrillo, bambini non vaccinati, le accuse sono confermate all'assistente Petrillo. La procura ha chiuso le indagini per peculato, omissione dati d'ufficio e falsità nei confronti dell'assistente sanitario. Ancora, sempre sulla prima pagina del Messaggero Veneto, e sempre per quanto riguarda la cronaca di Spalla, incontri a luci rosse con i profughi sul Torre, un blitz della polizia, suggerito del Torre, a Udine e poi alla Tisana. Scendendo, vediamo, offese ai politici, ai vigili su Facebook, due denunce a la Tisana. Ancora l'avvio domani di vicino o lontano, darà voce agli esclusi oggi quattro pagine speciali sul Messaggero Veneto. E sempre per quanto riguarda la cultura a Torino, sta per aprire il Salone del Libro e c'è anche un'importante presenza della nostra regione, cappeggiata da Pordenone Legge. Andiamo nelle pagine interne, andiamo sulla prima pagina del fascicolo dedicato a Udine e provincia. Si parla della donata degli Alpini di Trento, in programma nel fine settimana, maglia speciale per la donata, Venite a Udine, in 5.000 verso Trento, da tutta la provincia e gli Alpini promuovono la candidatura per il 2021. Udine si candida quindi ad ospitare la donata nel 2021. E c'è anche chi salterà il voto al ballottaggio in città a Udine per partecipare alla donata. In 150 salteranno il voto, scrive il Messaggero Veneto. Chiudiamo questo quotidiano e andiamo a vedere adesso la prima pagina del Gazzettino. Questa è la prima pagina nazionale, vediamo anche qui la politica in primo piano con l'ultimatum di Salvini al Di Maio. Salvini dice se restano i vetti di Berlusconi e Di Maio subito al voto, basta perdere tempo. Esecutivo neutrale lo vuole solo il PD. Mattarella doveva dare a me l'incarico. Queste le parole di Salvini. Andiamo adesso nelle pagine interne e andiamo sulla prima pagina del fascicolo dedicato a Pordenone. Il titolo di apertura alle scuole, le liste dei non vaccinati. L'azienda sanitaria pronta alle sanzioni fino a 500 euro. Chi pagherà la multa potrà frequentare senza la copertura. Fuori da asilie materne invece i bambini da 0 a 6 anni che non hanno la copertura vaccinale. Niente profilassi per 1.800 alunni sui 49.000 complessivi. Questi sono i numeri della provincia di Pordenone, delle scuole del Friuli occidentale. Ancora andiamo a centro pagina dove vediamo questa fotonotizia che ci mostra un ultraleggero che per effettuare un atterraggio d'emergenza ha tranciato i cavi dell'elettricità a Pravis Domini. Ultraleggero provoca un blackout. Atterra e trancia i cavi dell'elettricità. Era partito dall'aeroporto Gino Allegri di Padova ieri mattina. Ha tranciato un cavo della media tensione nella frazione di barco dove su una proprietà privata insiste la pista di atterraggio. È il secondo episodio del genere nel giro di un mese. Ancora sempre sulla prima pagina del gazzettino di Pordenone vediamo gli affari di Gaiatto con i soldi da Miami. Le indagini sulla truffa arrivano in Florida a 600 mila euro per un investimento in Toscana. Le indagini sulla truffa milionaria attribuita alla società londinese Venice Investment Group Ltd fanno tappa anche in Florida. Ancora vediamo di spalla a Sacile cortocircuito auto e deposito distrutti dal rogo. Ancora un investimento di un ciclista sulle strade del Pordenonese è successo ad Aviano. Grave un 25enne travolto da un camion. Andiamo nel taglio basso dove si parla di sport. Nero Verdi a Salò in diretta su Rai Sport. La sfida fra Pordenone e Feralpi Salò. E ancora andando nel taglio alto vediamo qualche altra notizia. La maestra di Kabul che salva le donne e i bambini con le storie, una bella storia raccontata poi nelle pagine interne. In mostra lotta alla mafia, 40 anni senza pepino, impastato. E poi ancora il viaggio del maestro afgano dall'indu Kush a Pordenone. Dall'aprile 2016 Favade Raufi vive a Pordenone dove è giunto dopo un viaggio della speranza da Kabul. Lo racconta in un libro. Questa è la prima pagina del Gazzettino di Pordenone. Adesso con l'aiuto della regia di Francesco Snidero andiamo a vedere anche la prima pagina del Piccolo di Trieste e di Gorizia. Così vediamo anche le notizie in primo piano in provincia di Trieste e nell'Isontino. Ecco la prima pagina di Trieste, il titolo comune sì al bilancio tra i veleni. Scontro sulla vendita di azioni era lite di piazza PD alle chiese 300 mila euro. E poi invece a centropagina una fotonotizia che ci parla degli immobili ex Allianz cento milioni sul mercato. Il gioiello è Palazzo Pitteri in piazza Unità. Ancora andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Piccolo di Gorizia. Ci sono i cantieri in Corso Italia in primo piano. Svolta sui cantieri di Corso Italia, il comune di Gorizia risolve il contratto. Subito via polvere e transenne, cantieri bloccati da qualche mese. E poi la questione migranti sul greto dell'Isonzo. Giù bivacchi e baracche sulle rive dell'Isonzo è iniziato lo sgombero tra Gradisca e Sagrado. Queste sono le notizie principali sul Piccolo di oggi. Poi vediamo anche, sempre nel taglio centrale sotto la fotonotizia, a Grado vigili contro il comune, eventi senza sorveglianza. Questa è un'altra notizia che ci arriva da Grado. E poi invece di spalla vediamo l'articolo di Marco Orioles che si sofferma sul caso Monfalcone e anche sulla decisione del sindaco Cisinte di bloccare i lavori per la realizzazione del centro islamico. I bengalesi di Monfalcone è quello stop alla convivenza. Queste le parole di Marco Orioles nell'articolo di oggi sul Piccolo. Rientriamo in studio e chiudiamo con questa prima pagina, la prima parte del nostro Buongiorno Friuli. Adesso, come sempre, ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi saremo di nuovo assieme per proseguire questa nostra diretta con le notizie sportive. Andremo quindi sulle pagine sportive dei quotidiani di oggi, sui quotidiani sportivi nazionali, per le ultime notizie che ci arrivano appunto dal mondo dello sport. Un po' di pubblicità e poi il nostro Buongiorno Friuli prosegue.